piccolo aggiornamento delle 18 qui non va nulla la terza settimana non vuole partire i gruppi di gioco non vanno sia in singolo che nelle altre modalità coppie terzetti squadre tutto disattivato anche risa squadre quindi non ci resta che attendere e vedere come evolve la situazione intanto facciamo passare un po' il tempo ci vediamo dopo ciao 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 ciao